Dunque ragazzi, buonasera per il video a caldo di Cagliari-Juventus, la partita è finita da 5-6 minuti, la Juve appiega il Cagliari per 3 gol a 1, tripletta di Ronaldo nel primo tempo, tripletta di Ronaldo nel primo tempo, al 25-32, poi è stato accorciato il Cagliari al 61esimo con Simone, dunque sull'1-3, poi nel finale ancora un'occasione per la Juve che se l'ha mangiata Cristiano Ronaldo, 1-4 se l'ha mangiato, però diciamo che l'evento già nel primo tempo dopo il vantaggio di Ronaldo, anche lui stesso ha rischiato di essere espulso con un fallo sul portiere del Cagliari che poteva trastare il rosso, poi la Juve ha dilagato al 25esimo raddoppi, 32esimo il 3-0, poi nel secondo tempo Morata più volte davanti al portiere del Cagliari se l'ha mangiato il 4-5-0. Purtroppo quando non le chiudi, diciamo il 3-0 era abbastanza tranquillo, ma poi il Cagliari ha accorciato distanze 1-3 e poi la Juve in qualche modo è sparita, non ha avuto più grandi palle gol vicino alla cranio, poi nel finale soltanto quando Ronaldo se l'ha mangiata di nuovo. Però sotto a porta certe volte siamo troppo egoisti, dunque Morata più volte davanti alla porta non ha chiuso o non ha riuscito a segnare o non è riuscito a passare il passaggio al giocatore più meglio piazzato sotto a porta, tre volte bisogna anche passare il pallone e Morata oggi due o tre volte non l'ha fatta. E se l'ha mangiati anche oggi Morata, oggi proprio non mi è piaciuto, dunque Kuluseski c'è sempre il solito problema che quando fa tutto bene arriva quando deve passare sbaglia sempre l'ultimo passaggio, questo è il difetto di Kuluseski. Secondo tempo non mi è piaciuto tanto la Givento, non mi è piaciuto, un po' di stanchezza anche forse della Champions dei tempi supplementari, anche questo ha inciso sulla squadra. Intanto è importante vincere per tre a uno, portarsi a più cinque dalla quinta in classifica, per la zona Champions, vediamo, vediamo, vediamo. Adesso domenica c'è il Benevento, altri tre punti fondamentali dobbiamo fare, continuare, diciamo, a mettere punti in classifica e non voglio altre. intanto iscrivetevi ai canali, come ai nostri canali dunque, ai nostri canali. Frazio Antonio, Passione Juventus, Juventina Bianconera, El Matador Bianconero, Frenchi 68 e il capitano di Decide. Ciao a tutti, un saluto anche al mio fratello, al mio cognato e a tutti i nostri amici della Juvengers e a tutti il resto della Kikar. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata e buon fine settimana e buon inizio settimana, volevo dire. Ciao a tutti.